Ho dedicato alcune poesie a questo periodo difficile che stiamo vivendo, di questa pandemia. Un periodo caratterizzato da ansia, dolore, sofferenza, paura, lavoro, tanto lavoro, tanta fatica da parte di chi ci sta curando, di chi si sta prendendo cura dei malati. Possa a Dio dare loro la forza e proteggerli sempre. Questa poesia l'ho intitolata Il Minchius, Il Minchius, del 5 marzo 2020. Viene da lontano, dallo sputo del drago, e si diffonde pian piano sul mondo del Dio denaro. Se sei forte lo sconfiggi, se sei debole o già malato trapassi. A meno che non fai il miracolo di avere fede e pregare in un mondo ormai senza Dio. L'hanno soppresso. Quest'altra poesia l'ho intitolata La tigre, del 9 marzo 2020. La tigre in giro, la gente terrorizzata. Molti muoiono, altri fuggono, altri aspettano e pregano. Io invece, alla tigre, sto preparando l'insalata e il cappio. La riporterò nella giungla, ve lo prometto. Quest'altra poesia l'ho intitolata Divina Voce, del 9 marzo 2020. La voce che guarisce dal cielo viene. Sussurra il bene, l'amore e la cura, sul mondo nostro pieno di paura. Da lì, dove la luna e le stelle, limpide sorelle, riflettono nere l'amore e la preghiera del cuore su ogni mortale. Quest'altra poesia l'ho intitolata Covid-19, dell'11 marzo 2020. Il mostro silenzioso attacca. È un male globale. Forse ci vuole illuminare tutti e sensibilizzare all'amore per il prossimo e per il naturale. È un'occasione per evolvere, per guardare e ascoltare il prossimo di più, per divenire consapevoli dell'altrui male che è qui, che qui è tabù, di cui i popoli ridotti alla fame fosse normale. È una bacchettata soprattutto a quell'umanità viziata, opulente, pervertita, che non vuole proprio pensare l'altrui ferita. Dobbiamo cambiare, imparare finalmente la vita virtuosa e il compassionevole amare. Quest'altra poesia l'ho intitolata Aton, del 13 marzo 2020. Il sole, chi mai ci separerà dal sole? Nella notte, nella malattia, nella morte e nemmeno il male. Il sole brilla sempre su di noi e dentro di noi, a darci vita, respiro, calore e Dio. È Dio, il sole. Quest'altra l'ho intitolata Domiciliari a tutti, del 17 marzo 2020. Agli arresti rei di aver violentato l'ambiente per anni e anni di corsa all'oro, di vita super. Adesso la natura in faccia ad ognuno ha scagliato un pomodoro, un grosso pomodoro costringendoci a fermare tutto, uscite, auto, cattiverie, barbarie e lavoro. Mangiamo soltanto, ma non ancora pane e acqua. Resta ancora qualche oro nella tasca, che quando finirà sarà la rivoluzione contro il governo spilorcio, l'Unione Europea immaginaria e l'euro castoro. Il caos amaro sarà. Augurio del 22-3-2020 Possa questo virus annegare nella pioggia che sta cadendo copiosa. Possa il vento freddo congelare questo virus come ha fatto con la mimosa. Possa questo virus essere polverizzato dalla preghiera all'aiosa. Possa Dio distendere su noi la sua mano miracolosa. Amen. Maschere bianche del 24 marzo 2020 Tante maschere che coprono sorrisi e pianti, stupori e rimpianti. Solo occhi, specchi di anime, solo occhi di ogni colore e lacrime che riflettono di ogni persona tutto l'amore e la compassione che questa quarantena sta tirando fuori dai cuori dopo cinquant'anni di occhi spenti, sorrisi finti e visi in colore.